La vicenda dell'allora chiusura dell'ex tribunale di Rossano continua a destare polemiche dopo la notizia dell'ampliamento dell'attuale presidio di Castrovillari. Le telecamere di LACI si sono nuovamente accese su una questione che la Siberitide non ha mai digerito nel suo complesso per metodo e condotta. Ieri puntata speciale di Dentro la notizia, format condotto da Pasquale Motta. Amministratori, associazioni, movimenti, esponenti del mondo forense sono stati i protagonisti di una battaglia che ormai prosegue da oltre un decennio. Castrovillari nasce con una configurazione che non era fatta per un accorpamento e che quindi adesso mostra e manifesta tutte le sue debolezze e le sue incongruenze. È diventato insostenibile fare gli avvocati pendolari anche perché non ci sono mezzi di trasporto e quindi tutto sulle nostre spalle e dobbiamo per forza spostarci con i nostri mezzi. In una relazione del Ministero della Giustizia venne attribuita dall'allora Presidente del Tribunale di Castrovillari l'affermazione secondo cui i locali del Pollino fossero sovrabbondanti nonostante il presidio fosse stato concepito per un'utenza di 120.000 abitanti per poi ospitare una circoscrizione di 240.000 abitanti. Adesso è doveroso intervenire per ripristinare diritto e verità. Noi senza timore un gruppo grossissimo di avvocati e di cittadini ha denunciato dei fatti di reato secondo noi puntualissimi e precisissimi che stranamente sono stati archiviati proprio da Salerno che è competente per i reati commessi dai magistrati. L'invito è ad evitare gli errori del passato. Credo bisogna recuperare un po' di coesione. La coesione è che in passato è stata solo di facciata. Il fatto che oggi si sia deciso di finanziare un allargamento sta a dimostrare che quella vicenda ha qualcosa di torbido.